Papà, papà, è vero che gli Otto Magic sono tornati? Sì, papà, sono tornati! Che bello! Caffè Soleil, in collaborazione con Otto Magic Organization, presenta, terza sessione primaverile, in console, DJ, 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 My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! La mano di Pitezza! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! My dream is to fly over a rainbow, so high! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti